Muore giovanissimo Enzo Tortor, aveva appena 59 anni, una carriera giornalistica e televisiva eccezionale, stroncata da quell'arresto il 17 giugno del 1983. Lo ricordo molto bene quel giorno, era un venerdì, io ero un giovane cronista a Napoli, scatta un blitz ordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli, oltre 300 arresti camorristi o presunti tali affiliati alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, ma il nome che fa scalpore quel giorno è il nome di Enzo Tortora. Conduceva Portobello, una delle trasmissioni rai più popolari di sempre della storia televisiva. La sua immagine fa immediatamente il giro dei telegiornali e possiamo dire il giro del mondo. Si vede Enzo Tortora avvilito, vestito alla menpeggio, scortato da due carabinieri e accusato appunto di associazione camorristica. Un reato che si rivelerà completamente falso. Che cosa era successo però? Che un gruppo di presunti pentiti della camorra lo accusano. In particolare ci sono due personaggi, Giovanni Pandico e Pasquale Barra, quest'ultimo particolarmente feroce, tant'è vero che era soprannominato o animale. Questi due accusano Tortora di far parte della camorra di Cutolo, di aver spacciato droga a Roma e a Milano. Sostengono che in una delle loro agendine c'è il numero di telefono di casa di Tortora. All'epoca non esistevano i cellulari, i numeri di telefono erano necessariamente fissi. Beh, sarebbe bastato comporlo quel numero di telefono per capire che non apparteneva a Tortora. Eppure il processo va avanti, una prima condanna in primo grado, fino all'assoluzione completa in Cassazione quattro anni dopo, quattro anni dopo, di travaglio per Tortora che finirà stroncato da un tumore. Quella vicenda è stato uno dei più grandi errori giudiziari della storia italiana. Lo Stato voleva dare una risposta alla camorra, si fece in qualche modo ingannare dalla camorra. Una vendetta fu quella, una vicenda di centrini che erano stati mandati a Portobello e non erano stati mostrati nella trasmissione. Da allora però si è imparata una cosa, che oggi sembra ovvia a distanza di 30 anni e passa, che le dichiarazioni dei pentiti, per quanto concordanti, non sono sufficienti se non sono basate su riscontri oggettivi. Una mara lezione.